Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA, mondo carriera allenatore, io sono sempre Andre e oggi siamo qua con un nuovo video che in realtà può essere una nuova serie. Infatti oggi siamo qua con il primo episodio di questa nuova tipologia di video che ho letto in un commento, infatti ringrazio tantissimo il ragazzo che l'ha scritto, adesso non mi ricordo il nome, però se ascolterai questo video, se vedrai questo video, commenta, ho scritto sono io, così ti riconoscerò dove andremo a vedere, vi proporrò delle squadre, diciamo delle squadre interessanti per affrontare delle nuove carriere. Non so, magari siete in un periodo dove non sapete che carriera fare, non sapete con che squadra farlo, che obiettivi porvi, se non i soliti che vincere il campionato, salire di Lega, eccetera. Quindi sono qua appunto per proporvi delle nuove squadre con cui fare determinate carriere che magari non avete fatto, poi ragazzi se avete già fatto carriere di questo tipo mi dispiace, però comunque ci sarà sicuramente qualcuno che ancora non avrà fatto questo tipo di carriere e direi di iniziare subito ragazzi senza perdere altro tempo dopo questa intro iniziale con la prima squadra che voglio proporvi oggi. Il primo è il Wolverhampton, ragazzi questa carriera qua l'abbiamo proposta a inizio anno perché comunque il Wolves ha fatto un'ottima strategia di mercato, c'erano grandi aspettative su questa squadra, i lupi d'Inghilterra chiamati così anche per il loro logo sono affamati di vittorie e vogliono vincere presto un titolo basando la loro squadra su una colonia di giocatori portoghesi. Eh sì ragazzi perché tanti ragazzi portoghesi sono nei Wolverhampton ma anche molto forti, molto forti, ma andiamo a vedere un attimo nel dettaglio la sua storia, la storia dei lupi d'Inghilterra. Nei primi anni di storia si fece vedere molto spesso ai vertici della classifica vincendo addirittura due FA Cup fino ad arrivare al massimo splendore nel dopoguerra. Stiamo parlando di tanti anni fa, gli anni 80 sono gli anni neri per il club che tocca il fondo a causa dei pesanti debiti arrivando in quarta divisione ragazzi, quindi comunque una squadra che era agli apici d'Europa e poi purtroppo a causa dei debiti cadono giù in quarta divisione. Sappiamo che sono tornati veramente in voga, piano piano infatti scalano le divisioni e per il campionato 2017-2018 viene ingaggiato il tecnico portoghese Nuno Espirito Santo che porterà il club in Premier dopo sette anni, iniziando ad avere proprio colonia portoghese del club. Sono infatti più i giocatori di nazionalità portoghesi che quelli inglesi. Che per una squadra ragazzi di Premier League è veramente straordinario. Quindi andiamo a vedere adesso gli obiettivi e le regole che vi andrò a proporre per questa carriera, per questa squadra. Il primo, piazzati nelle prime sei posizioni alla prima stagione in Premier League. Vinci entro quattro stagioni una Premier e due competizioni europee che possono essere l'Europa o la Champions League o la Supercoppa. Quindi già parliamo di coppe importanti e soprattutto puoi acquistare solo giocatori portoghesi e un massimo di un giocatore inglese per finestra e mercato. E qua sicuramente ci mettiamo un po' di pepe, dovrete essere bravi a scegliere i giocatori giusti. I giocatori più forti all'interno di questo Wolverhampton sicuramente sono Rui Patricio, il portiere, Gimenez, Raul, attaccante messicano e Semedo. Ragazzi qua tanta tanta roba, poi chiaramente c'è anche Adam Atorea e non lo dimenticheremo mai. I giovani in rosa sono Fabio Silva, giocatore molto promettente con 87 di potenziale. Ruben Neves, 86, fortissimo ragazzi Neves, calcia da dio, lo conoscete sicuramente. E Gips White, un inglese, 85, quindi anche vedete qua due portoghesi e un inglese ragazzi. I giocatori portoghesi consigliati che potrete comprare all'interno di questa carriera. Il primo è Maximiano, molto forte, portiere interessantissimo, 77 di overall, 88 di potenziale, portiere tanta roba dello Sporting Lisbona che abbiamo visto anche in una top dei giocatori portoghesi. Baró, trequartista portoghesi, anche lui chiaramente sono tutti portoghesi, 74 di overall, 86 di potenziale del Porto. Giallo, 70 di overall, 84 di potenziale del Lille, difensore centrale interessante. Un bel attaccante, Pedro Mendes, portoghesi dello Sporting anche lui, 72 di overall, 84 di potenziale. E Orta, 79 di overall di base e 83 di potenziale. Alla sinistra, molto molto interessante. Quindi ragazzi, se proverete questa challenge, mi raccomando, commentate e ditemi un po' se riuscirete appunto a sbloccare gli obiettivi in posti che secondo me non sono difficilissimi. Chiaramente giocate con la difficoltà che più vi riesce, però ragazzi provateci perché secondo me c'è da divertirsi, assolutamente. La seconda squadra che vi propongo oggi è il Leeds. Ovviamente Leeds United, lo sappiamo tutti, anche questa squadra l'abbiamo consigliata più o meno a inizio gioco, a inizio carriera di FIFA 21 perché c'erano grandissime aspettative su questa squadra. È uno dei club storici di Inghilterra che torna finalmente nella massima divisione inglese dopo 16 anni di assenza ragazzi. Tantissimo sotto la guida del loco Marcelo Biesa, uno degli allenatori sudamericani più forti di sempre. La squadra riesce a passare in Premier League ma secondo voi riuscirà ad affermarsi anche qui in Premier League? Diciamo che nel campionato nella realtà sta un po' faticando, però secondo me può avere grandissime opportunità per confermarsi perché comunque Marcelo Biesa è uno degli allenatori più forti di questo panorama degli ultimi anni. Poi hanno messo il proprio stadio e tutto il resto, quindi ragazzi molto interessante. Il Leeds viene fondato nel 1919, quindi qua stiamo parlando veramente di uno dei club più vecchi della storia della Premier League. Vince principalmente due campionati inglesi, una Coppa in Inghilterra e alcuni piazzamenti storici europei come la finale della Coppa delle Coppe e la Coppa dei Campioni. Nel 2014 il club è presenziato da italiani, prima con Cellino e poi con Radizzani, quindi gli italiani a ricercare di riportare un po' i leads agli apici. Dopo una stagione anonima sotto la presidenza di quest'ultimo viene disegnato come allenatore e loco Biesa, considerato uno dei migliori allenatori sudamericani della storia. E infatti riescono a ritornare in Premier League e a fare quello che stanno facendo. Gli obiettivi che vi poniamo per questa carriera sono, prima stagione, cerca di qualificarti per l'Europa League o posizionati tra le prime sette in campionato o tramite le Coppie nazionali. Quindi molto diciamo abbastanza abbordabile questo obiettivo. La seconda stagione arriva nelle prime quattro posizioni in campionato in Europa League supera gli ottavi di finale. Questo già potrebbe essere un po' più complicato. Terza stagione, qui ragazzi dovrete essere già bravi a scegliere i giocatori giusti e tutto il resto. Qualificati per la Champions anche quest'anno cercando di rientrare nelle prime tre posizioni o di lottare per il titolo. In Champions arriva almeno ai quarti di finale o vinci la Carabao Cup o la Fake Cup. Quindi qua parliamo già di obiettivi, vogliamo coppe, vogliamo titoli. La quarta stagione cerca di vincere il campionato e la Champions League. Scegli se fare una quinta stagione provando a vincere tutti i doffei disponibili in un anno. Quindi la quarta stagione almeno dovete vincere qualcosa di importante e la quinta, se volete ragazzi, dovete vincere qualsiasi cosa. Le regole per una difficoltà maggiore acquista solamente giocatori inglesi, scozzesi, gallesi e irlandesi. Unica eccezione sugli acquisti, un talento italiano richiesto dalla Presidenza, perché sappiamo appunto che la Presidenza è italiana. Devi avere sempre un bilancio positivo dalla seconda stagione in poi. Quindi ragazzi potrebbe essere una bella carriera, eh? Difficilotta ma secondo me molto interessante. I giocatori più forti sicuramente sono Rodrigo, Spagnolo arrivato quest'anno, almeno su FIFA è forte, perché nella realtà un po' fatica. Phillips, centrocampista difensivo centrale, un dei più promettenti sicuramente il Leeds e soprattutto inglese, molto molto interessante. Cooper, difensore centrale scozzese. I giovani in rosa sono Meslie, il portiere che conosciamo tutti, ormai fatto vedere grandissime cose. Shackleton, centrocampista centrale inglese, 80 di potenziale. E Roberts, gallese con 81 di potenziale, che sta facendo veramente molto molto bene anche lui. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo consigliato due belle carriere interessanti. Se vorreste altri video di questo tipo, con altre squadre, con altre carriere interessanti, lasciate un mi piace, un bel commento ragazzi, mi raccomando, per farmi capire che questa serie vi piace. Ci sentiamo al prossimo video, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!